Abbiamo iniziato a rispettare Siamo iniziati a rispettare Siamo iniziati Siamo iniziati Siamo iniziati Troverai il controllo dei cancelli di sicurezza Troverai il modo di uscire Gordon prova a metterti in contatto con il direttore Informalo su quanto è successo Torna subito Se pensi che ti permetterò di scappare Siamo iniziati Siamo iniziati Siamo iniziati Perché non vieni a cercarmi Abbiamo la trappola Lo sai Certo Siamo iniziati I pazienti sono pregati di assumere i medicinali ogni giorno all'ora prescritta Siamo iniziati Siamo iniziati Siamo iniziati Dove sono? Qua sotto Mi serve aiuto? No Preferisco lavorare da solo Sei a te libero Oh Dio Ho preso mai No Franklin mi senti? Staccato Arrivano gli aiuti Avviso All'armi invenuto a livello Mi soften Oracle mi senti? Forza e chiaro come va? Joker è scappato dalla custodia Gira libero per Arcan Hai bisogno di qualcosa? Il mio padre è ancora lì? Il commissario Gordon sta bene, Joker, non è molto lontano. Mi tengo in contatto. Vedi giù l'interrumpo, Zazzo! Grazie a tutti. Basta! Non ti ha fatto niente! Lascia! Zazzo! Ancora proprio... Se mi aggrappo con il razzino, i tecnici Gordon's dovrebbero leggere il mio viso. Prendite un altro. Qualcuno rispedisca quella bestia in cella. Mi senti? È acceso! Ah, ciao Batman! Qui, è lei, qui! Batman, mi ricevi? Oracle, sono qui. Il manicomio di Atom è sparito dalla rete. Ha preso il controllo del sistema di sicurezza. Deve averlo isolato dalla rete di distribuzione. E non è tutto. Secondo la polizia, ha piazzato bombe in tutta Gotham. Dice che le fa esplodere se qualcuno mette piede sull'isola di Arkham. Eh... Me? Come fa? La stanza è chiusa. Non mi resta da me. Non ci sono un po' di piedi. Trova con la radio. Chi sta al controllo dovrebbe riuscire a chiudere il cancello. A lui pensa di avermi intrappolato qui dentro. Non è mai stato un tipo brillante. Figlio! Mi prego! Ora con gli uomini di gioco. Avvicinamento direi non sarebbe un suicidio. Devo giocare l'altro. Sì, è un porto che cammina. Sì, è un porto che cammina. Nessun problema. I ragazzi stanno completando i lavori. Le teste di lento di Arkham non avevano possibilità. Bene. Il topovorante sta per arrivare. Devi preparare una trampola. Non voglio che esca da questo edificio. L'hai capito? Oh, guarda che c'è. Mi fischiava le orecchie, mamma. Mi immagino che se avendo un zanno, ragazzi, che sto portando. Forse no. Sarà veramente sicuro. Ehi, ragazzi, qui è il vostro simpatico il zio Joker. Attenzione, un paziente è scattato. È vestito come mamma. Che in via ottavre mi ho dovuto sapere che ho questo mettericolo. Personalmente credo che la soluzione migliore sia abbattolosa. E non ricaturate. È come un bel macrambella a un bambino. Sapete, ho un buon presentimento. Voy a mettere tutto quello che serve per mandare Batman. Forse, Mario. Non c'è, ma non c'è. Grazie. Per favore, ci fate di scelta. Lasciatelo qui, abbiamo problemi più urgenti. Cercate Batman. Ne ha spesi due di voi. Trovatelo. Grazie.